Un giorno fuori dalle aule per imbiancare una stanza o pulire un giardino in cambio di modesti compensi da devolvere in favore di una causa sociale condivisa. Saranno in tutto 400 e piccoli momenti di solidarietà simili a questi che avranno come protagonisti gli studenti di una quarantina di scuole e più di 100 associazioni e gruppi informali vicentini nel Social Day 2010. Percorso di cittadinanza attivo nato sull'esperienza tedesca, l'iniziativa si ripete da tre anni nel Bassanese, ma solo da quest'anno ha acquisito una patente provinciale. L'idea è quella di coinvolgere giovani generazioni nel sociale, sia da un punto di vista operativo che progettuale, facendo loro sporcare le mani con un lavoro vero e veri progetti di solidarietà scritti da loro. Il momento culminante sarà sabato prossimo tra Arzignano, Montecchio, Schio, Tiene e Bassano. I compensi saranno destinati a cinque iniziative di solidarietà internazionale, un progetto di microcredito per allunni e ragazzi poveri del Nicaragua, uno per la formazione scolastica di centinaia di bambini in Sudan, un progetto di tutela del lavoro minorile in Bolivia, l'apertura di un servizio di doposcuola per i nomadi in Romania e infine il sostegno della cooperativa Libera Terra per coltivare terreni confiscati alla mafia in Sud Italia. Sono i temi più scottanti, quelli su cui si confronta una società e mettiamo in campo quelli che sono i soggetti su cui abbiamo più fiducia sui giovani. Il successo dell'edizione dell'anno scorso aveva portato alla raccolta di oltre 20.000 euro destinati ad altrettanti progetti. Quest'anno si punta a raddoppiare. La nostra forza è proprio costituita da loro, dai giovani stessi che credono in maniera vera e in maniera forte in tutto ciò ed organizzano direttamente loro tutto, vi posso dire, dalla pubblicizzazione ai contatti con i dirigenti, con le amministrazioni comunali, con aziende, ditte. La maggior parte fanno parte delle superiori, quindi dai 15 ai 17-18 anni, però ci sono anche scuole delle medie e qualche scuola elementare. Tutti hanno dimostrato una sufficiente maturità per portare avanti questi progetti? Sì, sono stati accompagnati perché comunque c'è un percorso di una serie di incontri che comunque li hanno portati a capire veramente cos'era Social Day.